Buongiorno, buongiorno Amiglia. Allora, pareggia la Juve in casa col Sassuolo e bisogna fare i complimenti a De Zerbi perché è un allenatore che io per esempio ho sempre apprezzato e che l'anno scorso indicavo per la Fiorentina è andato a Torino, ha fatto la sua partita con anche tante indisponibilità, con coraggio, con forza, con foga, con boga e ha portato a casa un pareggio che per il Sassuolo è oro. È una squadra che è andata lì a giocare, ha un portiere giovane, questo Filippo Turati che ha fatto veramente una partita ottima oserei dire ottima e d'altro canto della Juve cosa dire? Hai pagato quello che altre volte non hai pagato cioè il fatto che là davanti manca sempre il guizzo per riuscire a portare a casa delle occasioni che crei perché la Juve quest'oggi ha creato anche molto, però non è stata capace di finalizzare quello che poi crei ci sono state tante occasioni create e non sfruttate, poi vabbè c'è stata quella cappella di Buffon sul gol del Sassuolo che sono cose che capitano per carità, però i due problemi della Juve sono questi cioè la mancanza che è riassumibile in una cosa, la mancanza di secondo me cattiveria in campionato ed è una cosa che oggi può essere salutare che la Juve deve o trovare o ritrovare perché non puoi ridurti sempre a dover risolvere le partite e questa è una pecca che va risolta, perché nessuno ti regala niente in Serie A nessuno ti regala niente e queste partite qua poi si mettono male e io vi dico anche un'altra cosa ho capito il discorso dell'equilibrio, ho capito il discorso che magari rischi troppo che ci sono troppi problemi nel far giocare, però io il trio Ronaldo, Dybala, Higuaini io lo userei più spesso, ma vi dico di più, soprattutto in queste partite io capisco quando giochi per esempio, anche se non lo capisco neanche lì perché comunque io sono di filosofia dezerbiana cioè a me piace giocare, mi piace attaccare, mi piace colpire per primo cioè io capisco questo discorso dell'equilibrio che devi salvaguardarlo però non so perché questo trio Higuaini Dybala e Cristiano Ronaldo non possa giocare di più anche perché quando entra Dybala è un'altra partita Ronaldo oggi al di là del rigore ha fatto un'altra partita veramente insufficiente e quindi io ripeto quello che deve trarre la Juve da sta partita è la necessità di avere più cattiveria assolutamente e da qui non si sfugge e poi la possibilità di, se vedi che hai difficoltà a fare gol, se vedi che devi farlo, se vedi che crei occasioni io non avrei paura a sbilanciarmi cioè non devi avere paura a eventualmente subire un gol quando giochi con squadre da campionato perché poi se tu hai quei tre davanti quasi sicuramente lo fai e si è visto oggi che comunque la Juve è un gol l'ha fatto e quindi io questo dico vorrei vedere più spesso in campo se fossi tifoso della Juve questo trio questo trio perché poi sono giocatori tuoi sono giocatori che fanno le tue fortune e devono giocare bene, ditemi cosa ne pensate e un caro saluto ciao